Buongiorno a tutti ragazzi, salve. Oggi Match Day, anche se è martedì. Lo so, è strano, però è così. Allora, ci sono due argomenti caldi, abbastanza caldi, di cui voglio discutere con voi. Il primo riguarda le parole del PM, Ciro Santoriello, di ieri sera, che sono state riportate ieri sera, in realtà sono parole del 2019 e voglio farvele ascoltare, voglio commentarle molto brevemente, perché non è il focus principale del video di oggi, che vuole invece parlarvi della partita di stasera, Saleritana Juventus. Perché? Perché c'è una formazione della Juventus, anzi in realtà c'è il mistero della doppia formazione della Juventus e quindi cerchiamo di commentare insieme al tutto. Io vi ricordo ovviamente di lasciare un mi piace a questo video, un commento con la vostra opinione a riguardo delle parole del PM, che probabilmente avrete già sentito o le sentirete comunque in questo video, e sulla probabile formazione che è stata aggiornata. Diciamo così, poi vi spiego anche il perché. Fatemi sapere se secondo voi la formazione è giusta per provare a battere la Saleritana. Allora, io cambio schermata, vado sul mio profilo Twitter, tra l'altro leggevo che Zagnolo Galatasaray quasi fatta, ultimi dettagli da definire poi la partenza per la Turchia, quindi dicevo Zagnolo l'ha sicuramente gestita bene. E poi c'è il video che è stato riesumato, un video di quattro anni fa, questo è il PM che parla all'interno di una conferenza e queste sono le parole. Ascoltiamole insieme. ...e una solidarietà di calcio, non sono bravo se faccio gli utili, ma se contestualmente agli utili vengo anche gli scudetti che a volte ha un rapporto di incompatibilità, come dice, un rapporto di incompatibilità tra le due cose. Io non è che sei, vabbè, non metto, sei perché sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Detto ciò, qual è il più importante? Wow, diciamo che come tifoso è importante il Napoli, come pubblico ministero ovviamente sono anti-juventino, cioè contro i ladrocini in cambio e mi è toccato scrivere archiviazione. Allora, sono tifosissimo del Napoli, prima in realtà non è che segua tanto, poi sono tifosissimo del Napoli, è meglio che lo dica, ma non solo sono tifosissimo del Napoli perché per quanto mi riguarda fin qui non ci sono problemi, ognuno ha diritto di avere la fede anche dichiarata, anche all'interno di altri lavori, ma odio la Juventus. Già questa è una frase molto forte, molto di impatto che secondo me era tranquillamente evitabile se si va a ricoprire una città. carica istituzionale di un certo tipo. In seconda battuta, come tifoso amo il Napoli, come pubblico ministero sono anti-juventino. Ho cercato di dare un nuovo tiro a quello che era già stato, secondo me è un'uscita abbastanza ballerina ed evitabile. Battuta? Probabilmente sì, non battuta? Non lo so. Sicuramente quando si ricopre una carica di un certo tipo bisogna stare un po' più attenti. Il punto qua non è tanto il fatto che si sia dichiarato tifoso del Napoli, perché come ho detto le simpatie e le antipatie ci possono essere, però quando si svolge un lavoro di un certo tipo bisognerebbe cercare di lasciare fuori dal calderone questa cosa qui. E la frase da pubblico ministero sono anti-juventino è abbastanza forte. È un video vecchio di quattro anni, lo dico ancora una volta per correttezza. Questo però non credo che annulli il messaggio molto forte e vediamo se si muove qualcosa, perché ho già visto un tweet di Abodi che ha detto che ha già fatto qualcosina. Quindi io direi di non andare ancora sulla questione, perché come dicevo nel tweet, secondo me ci sono davvero poche cose da dire. Questo video si commenta da solo. Poi la speranza è che la professione venga svolta al di là di quelle che sono le simpatie e le antipatie, che sono sacrosante a maggior ragione in un paese fondato sul calcio, in cui veramente l'Italia è una repubblica basata sul lavoro, ma che si appoggia sul calcio. E questo credo che sia un dato di fatto. Torniamo in topic con quello che è il vero, la vera discussione di questo video, oppure quella che volevo vedere come focus principale all'interno di questo video, che è la probabile formazione. Ancora una volta cambiamo la nostra schermata, la nostra grafica. Eccoci qua, con le sveglie che mi devono ricordare di prendere una cosa, ma questo è un altro discorso. Vlaovic di punta, con Di Maria dietro di lui, Kostic sulla sinistra, Desciglio sulla destra, Rabiot, Miretti e Locatelli centrocampo, Alessandro Bremer e Danilo in difesa con Scesni in porta. Perché il mistero della doppia formazione? Perché vi ho detto questo in apertura di video? Perché? Perché ieri sera, torno a casa, nella mia partita di calcio, tra l'altro abbiamo preso una rumba da matti contro la prima classificata, ne abbiamo presi cinque, era la prima vera partita che facevo dopo l'infortunio in YouTuber League. Mi è toccato fare l'ala, l'avrò fatto cento volte su e giù per la fascia stamattina, non mi sento le gambe, ma questa è una storia che a voi importa veramente poco, però è così, allora niente, arrivo a casa dalla partita e guardo, apro Twitter e vedo che Romeo twitta una formazione. Era praticamente la stessa, con Gatti al posto di Alessandro e quindi molto probabilmente con Danilo a sinistra e Gatti a destra, con Quadrado al posto di Desciglio e che è un Fagioli al posto di Miretti. Quindi una formazione, se vogliamo, di titolare o quasi, perché probabilmente è Alessandro il titolare in questo momento dalla Juventus, senza probabilmente è così, piuttosto che Gatti, così come davanti Quadrado e così come Fagioli al posto di Miretti a centrocampo. Tra l'altro ho anche pensato, oh, non gioca Alessandro per via della clausola, ne ricordo di aver fatto questo pensiero, allora la clausola è reale, la clausola esiste davvero, Alessandro sta in panchina per questo motivo e gioca Gatti al suo posto, invece no, perché pochi minuti dopo Romeo, questo l'ho imparato stamattina quando sono andato a recuperare la formazione, ha cancellato il tweet e ne ha fatto un altro con questa formazione. Già Desciglio al posto di Quadrado è un punto interrogativo perché è vero che qualcuno potrebbe dirmi, sì ma Quadrado è appena rientrato e quindi avrà bisogno di mettere minuti nelle gambe, ha giocato tutta l'ultima partita di Coppa Italia con l'Alessio e sono assolutamente d'accordo, ma allo stesso tempo pure Desciglio è appena rientrato e ha avuto tante in attività più di Quadrado, quindi non l'avevo visto benissimo nella partita con il Monza, Desciglio, ma proprio no, ma decisamente no, mi sembrava anche un errore bello grosso la parte di Allegri cercare di dare fiducia a Desciglio in quelle condizioni, ora sono passati una decina di giorni, sicuramente avrà lavorato, ha riposato nella partita contro Last, bene o male perché è entrato a pochissimi istanti dalla fine al posto di Quadrado, però Desciglio in questo momento non dà particolari garanzie, non le dà nemmeno Quadrado, quindi non lo so, Desciglio titolare un pochino di paura mi fa, devo dire la verità, un pochino di paura mi fa, vediamo che cosa succede, Miretti-Fagioli, allora ci sta a voler cambiare probabilmente un giorno di turnover, Fagioli comunque ne ha già fatte tante consecutive, Miretti tra l'altro mi è sembrato abbastanza ok nelle ultime due apparizioni che ha fatto, nel senso che è entrato e ha dato il giusto apporto alla manovra, però mi dispiace di sgregare quel centrocampo che nelle pagelle della Last avevo battezzato, definito insostituibile, quello del centrocampo titolare, non si scappa. Miretti è un giocatore che a me piace, negli ultimi mesi ha avuto un'involuzione netta secondo me dal punto di vista psicologico, che poi fa ricadere l'involuzione anche dal punto di vista tecnico, però non è come Fagioli, in questo momento Fagioli decisamente più pronto, più impattante, un giocatore diverso, differente da Miretti, quindi secondo me è un azzardo privarsi di Fagioli. In questo momento, ieri Allegri diceva che non c'è comunque bisogno di riposare perché abbiamo fatto poche partite da qui a quando abbiamo ricominciato un mese fa con i mondiali, eppure già la seconda partita in questo ciclo in cui Fagioli viene messo fuori. La prima a Napoli, secondo me abbastanza inspiegabile, questa la comprendo decisamente di più nel caso, però allora costa un pochino il ragionamento del non c'è bisogno di far riposare i giocatori. Difesa titolare, torna Scesni in porta dopo la prestazione a clean sheet di Perini in Coppa Italia dove non era praticamente mai stato impegnato, e ancora una volta Kostic che veramente le fa tutte. Ken in panchina, nonostante le parole al miele di Ieri di Allegri, ma c'era abbastanza capito? A meno che poi non decida di farlo giocare comunque. E Vlaovic e Di Maria che vanno a riformare quella coppia che abbiamo già visto in più di un'occasione e che con il Maccabi, non mi ricordavo il nome, in casa in Champions aveva funzionato molto bene con triple assist di Di Maria. Apro e chiudo parentesi, Federico Chiesa non c'è, non è nei titolari, vediamo se l'idea di Allegri è di tenerlo come arma nel secondo tempo o a riposo in vista della Fiorentina, perché poi c'è Fiorentina e Nantes e come dicevo io tra l'altro col Nantes sarò allo stadio. E quindi se ci vediamo allo stadio fermiamoci insieme per due chiacchiere e se volete anche una buona birra. Ci vediamo stasera in live su Twitch, tutti insieme qui e ovviamente su YouTube poi riparte la programmazione con tutti gli altri video dedicati al post partita di Salernetana Juventus. Ciao ragazzi!